Buongiorno, la mente vidiosa disse al cuore, non capisco perché gli uomini dicono che della loro vita sei il motore, sei un organo importante, te lo concedo, è vero, però non sei così speciale. Ora non ti accettare perché ti voglio dire che il tuo motore è diventoso, è fragile. Il cuore, come sempre, lo ha chiesto dolcemente, dimmi, ti prego, perché dici che sono fragile. La mente perfida risposta è il difetto che ti rende fragile e che dà il troppo amore. Ogni avvenimento per te è un'emozione, soffri, piangi. Ma il dolore riesci ad amare e perdonare. Non magari sai, mi sciogli come neve al sole, questo è il difetto che c'è nel tuo cuore. Io sono la mente, sono fredda, calcolatrice, razionale. Tu vedi solo il bene, mentre io sono razionale. E cerco sempre cosa mi conviene, gestare con il bene o con il male. Io sì che so speciale. Con un battito d'amore, così dispose il cuore. Non hai capito che nella creazione tra noi c'è un'emozione, la giusta compensazione. Se la mente non ha una grigia, è fredda, intelligente. Per questo non puoi amare. Amare. Mentre io sono il cuore con la mia fragilità. Io, io almeno posso amare. Mi interessa che di noi due è speciale. E il suo motore ad altri può donare suo tutto il suo calore. 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 Calore.